fratelli bianconeri e sorelle bianconere buon 25 aprile a tutti e a tutte ovunque voi siate iscrivetevi al canale anche oggi like al video, commenti e campanella per essere raggiunti raggiunti ovunque voi siate e noi non ci fermiamo mai, dobbiamo parametrare tutto quello che succede chi meglio del metro nostro Nicolino, Mirko buon 25 aprile a tutti e buona finale di Coppa Italia a tutti si sa che però non c'è tutto questo grande entusiasmo è ma strano invece gente contenta gente che critica invece che gente che dice che hai fatto il tuo dovere insomma siamo sempre un po' a metà del guado, senti essendo al 25 dimmi saremo con l'Inter l'unica squadra italiana che l'anno prossimo farà 5 competizioni cioè un minimo un minimo di orgoglio tra l'altro senza neanche aver avuto un mezzo favore arbitrare voglio dire, cioè siamo conquistati partita dopo partita Mirko, oggi è il 25 non lo so, voglio andare un po' di numeri Moratti ha detto che sono 25 appunto la Russa ha detto che gli ultimi 18 non ce ne dobbiamo vantare Mazzola ha detto che senza la Juve sarebbero 28 vuoi partecipare anche a questo gioco? Beh, io se non ci fossero stati Lippi, Trapattoni e Allegri io avrei vinto qualche scudetto con la Juventus sarei stato l'allenatore della Juventus e avrei vinto un bel po' di scudetti anch'io e se mia nonna avesse avuto tre ruote sarebbe stata una cariola e cioè vale tutto E certo, vale tutto e soprattutto se noi stiamo sempre zitti e gli altri hanno una cassa di risonanza magnetica arriviamo arriviamo a questi finali qua senti, veniamo a noi che è meglio caro il mio metro Nicolino com'è il metro del 25 aprile? perché qua leggendo i giornali oggi e anche quelli online ma pure i social devo dire che ci sono come sempre due campane c'è una che addirittura propende per il fatto che Massimiliano Allegri ha portato dei soldi con questa finale di Coppa Italia Supercoppa compresa e quindi si rafforza la sua posizione e l'altra che dice vabbè facciamolo finire magari vincendo la Coppa Italia e poi saluto Allora che la Juventus ribadisco giochi cinque competizioni il prossimo anno è merito anche di chi quest'anno è sceso in campo io addirittura prima che tu mi chiamassi io stavo leggendo un po' ho letto ma Allegri non ha nessun merito nella conquista del mondiale per club perché l'anno scorso non ci ha portato in Champions cioè siamo arrivati noi tifosi della Juventus a negare anche il fatto che la Juventus l'anno scorso sia arrivata terza e che sia stata retrocessa al quinto posto per una penalizzazione in punti ma come si fa a dire che la Juventus l'anno scorso non si è qualificata per la Champions la Juventus è arrivata terza allora ragazzi se siamo noi primi a delirare valgono tutti i deliri della controparte quando si parla di scudenti perché se siamo i primi bravo bravo poi dobbiamo accettare quando gli altri ci perculano scusate utilizzando anche dei numeri a casaccio perché se noi siamo i primi a non a non goderci le vittorie che facciamo le conquiste che abbiamo per me io lo ribadisco è un orgoglio poter seguire la Juventus attenzione avete letto il numerino la Juventus rischia di giocare 69 partite da agosto da agosto a giugno luglio 2025 cioè ragazzi questa è una cosa bellissima secondo me poi ovvio che vorremmo vedere anche noi un bello spettacolo vorremmo assistere a delle partite un po' più pimpanti di sicuro non voglio vedere una difesa in dieci uomini a centrocampo in una partita che sta andando verso i tempi supplementari come è successo ieri sera in Atalanta Fiorentina e dai Claudio cioè una squadra che sta per andare ai supplementari con un uomo in meno difende a centrocampo e prende tre gol cioè ma ragazzi ma come si fa a difendere in quel modo cioè io capisco tutto capisco che piaccia a molti il gioco offensivo la pressione alta però c'è una cosa che si chiama equilibrio che nel calcio non può mancare mai quindi l'auspicio qual è? che noi giochiamo queste cinque competizioni l'anno prossimo con una squadra equilibrata indipendentemente dall'allenatore in questo momento secondo me la Juventus non è una squadra equilibrata nemmeno nella rosa dobbiamo essere onesti e quindi senti nel frattempo ti sottolineo visto che hai parlato delle famose cinque competizioni torniamo sempre ai dind e ai soldi perché è la società in questo momento quelli interessano i soldi a proposito scusa ma la faccenda sponsor in una palude dov'è? in questo momento ancora la situazione per quello che so in alto mare perché le trattative con nuovi potenziali partner non hanno portato quelle cifre che la Juventus sperava e come dichiarato da Calvo stesso la Juventus vuole monetizzare al massimo il suo brand quindi si parla della possibilità di questo rinnovo ponte con Jeep però anche lì ancora grossissime novità ma Mirko non è che adesso siamo in aria di ponte in questi giorni e abbiamo il ponte vogliamo fare il ponte sui contratti ai giocatori il ponte allo sponsor il ponte all'allenatore siamo una squadra ponte siamo siamo una squadra ponte e la cosa simpatica è che molti guardano il dito e non guardano la luna perché ribadisco vogliamo tutti vedere una Juve più bella più pimpante più aggressiva più offensiva ma ricordatevi che se non ci sono questi di squadre forti non se ne fanno e è vero che la Juventus negli ultimi anni ha comunque avuto una squadra molto costosa ma non significa che fosse la squadra più forte non significa che fosse la squadra più forte quindi obiettivo primario continuare a piazzarci lo so che è brutto da dire però lo ha detto Giuntoli prima della partita prima della semifinale di Coppa Italia perché molti ecco un'altra delle cose di cui è stato accusato Allegri nel post partita ha sottolineato che servono gli otto milioni della Supercoppa ma nel pre partita lo dice Giuntoli dobbiamo raggiungere la finale di Coppa Italia perché ci serve partecipare alla Supercoppa la Juventus deve racimolare qualunque cosa Canavino due mesi fa quando non parlò di vincere la Coppa Italia ma di arrivare in finale proprio perché pensavano la Supercoppa Italia e in questo però la Juventus ragiona sui soldi allora bisogna raccogliere da qualunque parte si possa raccogliere e in questo mi fa mi trova un po' in disaccordo devo dire la verità il fatto che la Juventus rinuncia alla tournée estiva perché anche lì ci sono dei soldi poi qualcuno può dire sì ma la preparazione eccetera però ragazzi anche il Real Madrid fa la tournée estiva anche il Paris Saint Germain fa la tournée estiva cioè le grosse squadre fanno tutte la tournée estiva perché si riesce a conciliare una grossa squadra e quindi non la facciamo ma è sì ma è quello ma è quello se tu hai una squadra forte ma la Juventus che vinceva gli scudetti di Fila quasi tutti gli anni faceva la tournée e si vinceva o no e allora non è è come la favola degli infortuni per i campi esatto esatto a proposito scusa a proposito di soldi perché poi mi vengono in mente perché me le dimentico prima l'età occhio ad accantonare ti ricorda il Mondiale per Club grandiosa iniziativa di infantino minimo 50 milioni pare che non abbiano trovato gli sponsor e quindi non sono proprio 50 milioni che ti arrivano a fare il Mondiale per Club già oggi ho letto addirittura più di 50 intanto la prima cosa fondamentale è quella di chiudere il contratto con le TV perché sappiamo che queste competizioni la maggior parte degli introiti li ricevono dalle televisioni ora c'è questa trattativa in fase avanzatissima con Apple però non sembra che possa portare quelle cifre lì alla fine stiamo parlando di una competizione che non si giocherà negli stadi dei club e quindi non potrai monetizzare il pubblico si giocherà negli Stati Uniti durerà quello che durerà quindi poche settimane e quindi puoi capire che non ha lo stesso appeal di una Champions League o di una Super Lega quindi hai detto una cosa magica perché al come è che al 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 anche l'Aifi quello lì quello lì quello che ha posto di Agnelli nell'Eca dice che la Super Lega non esiste che prima o poi ce ne renderemo conto dice lui ma hai notato una cosa fantastica che al Calaifi fa notare come da inizio anno ad oggi i club entrati nell'Eca siano aumentati da 266 a 600 e che l'organismo sia diventato più partecipativo più democratico ma cosa significa che quindi non era prima non erano democratici e non erano partecipativi e quindi stanno dicendo che in seguito alla sentenza della Corte Europea si stanno adeguando e stanno diventando quindi l'Uefa si adegua l'Eca si adegua la FIFA si adegua e mentre si adeguano però i principali esponenti rimangono di quel partito là che non è il nostro esatto che non è il nostro e soprattutto rimangono dello stesso partito del tra virgolette palazzo italiano nel quale in questo momento sta succedendo di tutto cioè c'è una guerra fratricida cioè quelli che sono stati portati lì da quelli che comandano i vari lottito e litigano con lottito eccetera è fantastica sta cosa cioè in un momento tra l'altro delicatissimo del calcio italiano e noi sappiamo ma io ho imparato che in queste situazioni noi dobbiamo seguire solo una cosa Claudio i soldi segui i soldi e trovi sempre i motivi di alcune liti come diceva come titolava quello famosissimo scrittore nonché sceneggiatore ma anche autore va dove ti porta il soldo il soldo no perché allora questa cosa è fantastica chiudiamo la cosa sui soldi così salutiamo tutti e ti ringrazio come sempre e ci prepariamo per dire un bellissimo Juventus Mila ci prepariamo a un sottotono Juventus Mila quindi scusa visto che è una questione di soldi questa cosa la devo capire perché ti ripeto oggi ne ho sentite 200 diverse di campane ma quindi il contratto di Allegri a proposito di soldi vincola la Juve a fargli finire il contratto o no? io ti dico la mia perché ho letto in questi giorni di accordo con risoluzione consensuale a costo zero la risoluzione consensuale con Allegri non sarebbe assolutamente a costo zero e poi c'è un aspetto che molti non ricordano che oltre all'ordo dobbiamo anche considerare i soldi degli staff perché c'è uno staff che lavora con Allegri ha dei contratti e se dovesse arrivare un nuovo allenatore ci sarebbero anche nuovi collaboratori con i loro contratti e quindi sarebbe un'operazione totale di compresa tra i 20 e i 30 milioni e non c'è possibilità che mi risulti che la cosa si faccia a zero perché nessuno nessuno va via da un'azienda ma nessuno ma nessuno ma chi lo farebbe scusami c'è il TFR c'è la buon'uscita c'è ancora un contratto che durò un anno ma tutti quelli che scrivono sui social ah ma io rinuncerei senza problemi non ha mai rinunciato nessuno a un centesimo quindi dobbiamo poi se lo fanno vuol dire che hanno già calcolato il rischio diciamo che al momento lo slogan della mattinata è vai dove ti portano i soldi ma in questo momento i soldi ti ha portati allegri con la finale di Coppa Italia quello è io dico che nel calcio non c'è nulla di scontato ovviamente i meriti vanno sempre equamente divisi però se i giocatori sono questi la dirigenza è questa e l'allenatore è questo il merito delle cinque competizioni che giocheremo il prossimo anno è di quelli che ci sono adesso quindi ragazzi grazie buon 25 aprile a tutti andate piano iscrivetevi al canale ecca il video commentate commentate con gentilezza mi raccomando e invece scampanellate con decisione per essere raggiunti e raggiunte ovunque voi siate dal nuovo contenuto grazie Mirko alla prossima grazie a tutti